Il popolo della libertà di Piacenza resta senza un parlamentare per devoti rispetto alle precedenti elezioni ma si dice ugualmente soddisfatto per il risultato ottenuto. Nel nostro territorio il pareggio con un centro-sinistra considerato grande favorito alla vigilia viene visto come un ottimo punto di partenza per rilanciare l'attività azzurra. Sicuramente il risultato del PDL a Piacenza è un risultato positivo sia in provincia che in comune. Devo dire che da questo punto di vista si è cercato di portare avanti un'idea. Credo che a Piacenza tra l'altro ci sia un margine molto basso anche col PD sia tra provincia e città e quindi sicuramente ancora una volta Piacenza si rivela una città di centro-destra e non di centro-sinistra. Da questo punto di vista credo che sia molto importante l'impegno che tutti i consiglieri fanno tutti i giorni e quello che ci mettiamo di nostro anche nel cercare di portare avanti un'idea. Piacenza città di centro-destra, non ci sarà nessun parlamentare però di questo schieramento. Beh questo ci spiace molto perché da questo punto di vista sicuramente la rappresentanza in Parlamento sarebbe stata importante per tutti i piacentini. Dopo quattro legislature Tommaso Fotti non rientrerà più alla Camera, è insomma un fatto che colpisce? Beh questo sicuramente perché comunque l'attività che ha svolto lui e tutto quello che è stato fatto era sicuramente a tutela della città. L'assessore provinciale Andrea Paparo usa una metafora calcistica per descrivere la sconfitta di Bersani. Riusciti essenzialmente a perdere una partita che stava vincendo 3-4 a 0 10 minuti dalla fine. Questo grazie anche alla grande rimonta del centro-destra che comunque ha saputo entrare in sintonia con l'elettorato italiano con una serie di contenuti.